Siate forti, non si deve cedere, si deve combattere, non con mezzi termini, ma con coraggio, non di nascosto, ma in pubblico, non a porte chiuse, ma a cielo aperto. Volle vivere da povero, nato povero, vissuto povero e sicuro di morir poverissimo, lasciò scritto nel suo testamento. Giuseppe Sarto nacque il 2 giugno 1835 a Riese, un piccolo villaggio nel nord Italia. La sua famiglia era modesta, con un padre postino e una madre che faceva la sarta. Crescendo, Giuseppe dimostrò un'intelligenza vivace e una profonda devozione religiosa. Queste qualità lo portarono al seminario e, nonostante le difficoltà economiche, completò oggi gli studi grazie all'aiuto di benefattori locali. Ordinato sacerdote nel 1858, iniziò il suo ministero in piccole parrocchie, dove si guadagnò la reputazione di pastore vicino al popolo, attento ai bisogni spirituali e materiali dei fedeli. La sua umiltà, però, nascondeva una determinazione incrollabile. Con il tempo fu nominato vescovo di Mantova e, successivamente, patriarca di Venezia. Durante questi anni, Sarto fu un instancabile riformatore, preoccupato della formazione del clero e della vita spirituale dei suoi fedeli. Nel 1903, dopo la morte di Leone XIII, il conclave lo elesse papa, nonostante lui si sentisse inadatto a tale carica. Prese il nome di Pio Dacce e, come successore di Pietro, iniziò un pontificato che avrebbe lasciato un'impronta indelebile nella storia della Chiesa. Pio Dacce è ricordato come il papa riformatore. Tra le sue opere principali vi è la riforma del breviario e del catechismo, con l'intento di rendere più accessibile la liturgia e l'insegnamento della fede. Fu anche un fervente promotore della comunione frequente e della prima comunione ai bambini, abbassando l'età richiesta, poiché credeva fermamente che l'eucaristia fosse il nutrimento essenziale per l'anima. Durante il suo pontificato, si trovò a combattere il modernismo, un movimento che vedeva come una minaccia per la dottrina della Chiesa. Con l'enciclica Paschendi Dominici Gregis, condannò le idee moderniste e istituì una commissione di vigilanza per mantenere la purezza della dottrina cattolica. Nonostante la sua fermezza dottrinale, Pio Dacce era un uomo di grande compassione e carità. Durante i suoi anni a Roma, aprì le porte del Vaticano ai bisognosi. E istituì opere di assistenza per i poveri. Amava la semplicità e continuò a vivere in modo sobrio, nonostante il fasto della corte papale. Nonostante la sua fermezza dottrinale, Pio Dacce era un uomo di grande compassione e carità. Durante i suoi anni a Roma, aprì le porte del Vaticano ai bisognosi e istituì opere di assistenza per i poveri. Amava la semplicità e continuò a vivere in modo sobrio, nonostante il fasto della corte papale. Pio Fest morì il 20 agosto 1914, all'inizio della Prima Guerra Mondiale, che egli aveva tentato in vano di prevenire con i suoi appelli alla pace. Fu canonizzato il 29 maggio 1954 da Papa Pio Quotto, che lo definì il Papa dell'Eucaristia. La sua vita è un esempio di umiltà, determinazione e amore per la Chiesa. Pio Dice non cercò mai il potere, ma lo usò per rinnovare la fede e proteggere la dottrina, rimanendo sempre vicino al popolo e fedele al suo motto. Instaurare omnia in Cristo, rinnovare tutto in Cristo.